partiti freccia di fuoco all'interno in leggero vantaggio nei confronti di Swiss che si propone al suo esterno poi allargo a Stragalus più indietro Nabil allargo di tutti Dragonforce e Come From per linee interne prosegue al comando freccia di fuoco nei confronti di Swiss poi a Stragalus e Nabil allargo per linee interne Dragonforce e Come From siamo a 300 dal palo freccia di fuoco subisce l'attacco interno da parte di Dragonforce che sta passando attaccata allargo da Stragalus poi Come From siamo nel tratto finale con Dragonforce che all'interno è passato in vantaggio nel finale Dragonforce mantiene la meglio su Astragalus al terzo posto Come From su freccia di fuoco rivediamo ora le immagini con il numero 2 e Salvo Basile in sella a bersaglio in questa terza corsa di Napoli Dragonforce al posto d'onore il 4 di di Astragalus sul 6 di Come From quindi 2 4 6 il probabile ufficioso arrivo della terza di Napoli